Il rumore del mare, storie, affari e i capi della Camorra. Tobia Iodice insieme alla collega Umberto Rollino, questo grande libro edito da cento autori dal 20 giugno, già siamo alla seconda edizione, si ripercorre la storia della malavita organizzata in Campania fino poi a spiegare perché il sistema. Sì, in questo testo abbiamo ripercorso le origini della Camorra dal 1600 quando arriva a Napoli portata dalla dominazione spagnola fino ad arrivare ai clan dei giorni nostri e a come questi abbiano saputo costruire attraverso un intreccio perverso economia Camorra, appunto rifiuti, abbiano saputo costruire un impero che oramai domina l'economia di questo paese e non solo. Si parla spesso degli intrecci tra Camorra e politica, se ne parla tanto soprattutto dopo il successo di Camorra, ecco in questo libro cosa si racconta? Allora noi abbiamo ripercorso un po' le varie tappe di questo abbraccio mortale tra politica e Camorra, un abbraccio che nasce con Raffaele Cutolo e in occasione del sequestro Cirillo. Per la prima volta la Camorra si siede al tavolo della politica e tratta da pari con la politica stessa. Poi questo rapporto viene perfezionato da Carmine Alfieri ma quando la parabola di questo camorrista tramonta, tramonta anche questo abbraccio. Oggi la Camorra non ha più bisogno della politica, è più forte della politica stessa. Ha bisogno del denaro, ha bisogno di sedersi ai tavoli con le banche, con i grandi imprenditori, perché oramai è attraverso il denaro che costruisce la sua forza, che controlla anche il territorio in cui opera, che non è soltanto quello napoletano, ma possiamo dire senza tema di esagerare che è un territorio nazionale. Il rumore del male è suddiviso in tre parti? Il rumore del male è suddiviso in tre parti, sì. Nella prima parte, come le dicevo, ripercorriamo le origini della Camorra dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Una parte centrale le biografie di quattro camorristi chiave, Cutolo, Alfieri, Schiavone e Di Lauro. I quattro camorristi che hanno trasformato la Camorra da fenomeno episodico, anche folcloristico, o comunque legato a porzioni del territorio napoletano, in sistema. Una terza parte, l'abbraccio mortale politica Camorra e la sua ricaduta più immediata, l'affare rifiuti, l'avvelenamento di questo territorio. Cosa contraddistingue questi quattro boss? A Cutolo va il merito, se di merito possiamo parlare, di essersi seduto per la prima volta al tavolo della politica, quindi di aver portato la Camorra nella stanza dei bottoni. Un procedimento che Carmine Alfieri ha affinato perché all'abbraccio con la politica ha unito anche una capacità imprenditoriale fuori del comune. Dopo Alfieri il rapporto politica Camorra entra in crisi e allora Schiavone gestisce la Camorra come una holding finanziaria. Si inserisce nei tessuti molli di questo paese, in maniera particolare nella gestione dei rifiuti, un processo che in un certo qual modo subisce un ulteriore affinamento con Paolo Di Lauro, l'uomo che da un quadrilatero di strade, secondo Iano, riesce a costruire il più grande impero economico criminale al mondo.